Sindaco, vogliamo parlare di questo importante progetto che il Comune di San Giovanni Tiatino ha messo in campo per combattere la disoccupazione? È un progetto intanto che va a interessare una fascia tra i 18 e i 24 anni che non lavora, che non studia e che non è attualmente impiegata in corsi di formazione. È un progetto in cui abbiamo creduto fortemente, è una partnership privata, partner internazionali, Romania, Grecia, Polonia, Spagna, quindi è un progetto importante. Noi siamo uno dei sei comuni italiani che hanno presentato il progetto, l'unico in Abruzzo, coordineremo questo finanziamento di 300 mila euro, faremo il primo meeting internazionale ad aprile a San Giovanni Tiatino e a dicembre 2016 divulgheremo tutti i dati che abbiamo raccolto. Speriamo di dare la risposta a quella che è oggi una grande necessità da parte dei giovani. Assessore, l'importanza della regione e della sinergia fra regione e comuni. San Giovanni Tiatino insieme ai partner della Cordata ha dimostrato che è possibile rispondere ai fondi europei, che l'Abruzzo è capace e che i comuni abruzzesi sono capaci. Questo si può fare se si lavora sodo, se si hanno dei buoni progettisti, se si intercettano le call europee, che purtroppo invece l'Italia non riesce sempre ad intercettare. San Giovanni in questo caso è stata un'eccellenza insieme ai partner. La regione sta cercando di attrezzarsi per poter sostenere i comuni, le istituzioni, ma anche i privati, che insieme al pubblico vogliono far sì che i progetti possano essere finanziati dall'Europa.